Viaggi come L. Sei lezioni per diventare un vero milanese. Lezione 1. Un cappuccino e una brioche. Grazie. Non prendere il cappuccino dopo le 11 e goditelo al banco. Lezione 2. Buongiorno, bella. In Italia ci salutiamo con due baci. Da sinistra a destra. Lezione 3. Parla con le mani. Buongiorno. Vorrei un caffè. È buonissimo. E in ogni cuore incantato... Contare in italiano. Sotto la luna argentata che dà... Uno. Due. Tre. Tre biglietti. Grazie. Lezione 4. Gelato. Buono. A tutti piace il gelato. Lezione 5. Andiamo al parco. Prendo il sole. Leggo il libro. Discese da un romantico pupè. Lezione 6. Aperitivo? Ma calma. L'aperitivo comincia dalle 6 e mezza. E tanti stucchi chini accompagnano il tuo spritz. Cing cing. Ciao ciao. 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 Grazie a tutti